La Slovacchia con Boris Kollar Sono felice di essere qui con voi oggi ma non parlo italiano oggi avrò Amici sapete che è uno dei più popolari politici in Slovacchia Matteo Salvini Matteo Lui piace alla gente in Slovacchia perché è riuscito a risolvere il problema degli immigrati Lui protegge le tradizioni ed aiuta quelli che ne hanno più bisogno Amici sono molto lieto di essere qui con voi perché si dice che l'unione fa la forza Se noi uniamo le nostre forze potremo ottenere qualsiasi cosa Sapete come ci soprannominano e quale etichetta ci appiccicano le elite politiche convenzionali Slovacchia? Ci chiamano estremisti Ma sapete come si comportano questi politici convenzionali? Soltanto rubano Soltanto mentono E soltanto truffano Nello stesso tempo queste persone con tutte le loro forze supportano le persone più ricche Le grandi multinazionali, i gruppi finanziari, gli oligarchi e le banche E nello stesso tempo se ne fregano della gente comune e dei vostri problemi Io sono convinto che i partiti e i politici convenzionali si comportano in modo simile anche da voi in Italia e negli altri stati dell'Unione Europea Perciò è giunta l'ora di mandare questi politici lì dove meritano di essere Cioè in una discarica La discarica della storia politica Con le nostre forze unite ci riusciremo Grazie amici E ora